Ciao a tutti ragazzi, sono Davide Ruberto, il figlio del pittore Ruberto Giuseppe. Sono qui nel nome di tutta la nostra famiglia Ruberto per presentare questo progetto. È un progetto super nuovo per portare avanti la storia di mio padre, di nostro padre, che per anni e anni ha rappresentato Riccione nei suoi quadri. Qui vediamo uno degli spot più famosi, che lo vediamo anche ricalcato in questo di uno dei suoi quadri. Come vedete, questa è la famosa sapiolina, che è stata ripresa più volte da mio padre nei suoi quadri. Qui siamo al porto di Riccione. Insomma, il progetto è questo qua, molto semplicemente. Grazie alla benevolenza dei clienti sparsi in tutta Europa, siamo riusciti ad entrare in possesso dei quadri originali per un giorno e ci hanno dato la possibilità di fare fotografie di alto livello, di alta qualità in studio fotografico e poi grazie a dei grafici qualificati siamo riusciti ad ottenere un prodotto che è praticamente la ristampa della foto fatta in studio su tela e rimontata esattamente sullo stesso telaio di legno con cui venivano fatti i quadri originali. In questo momento vi vado a presentare una replica. Questa è una replica di uno dei quadri che mio padre ha sempre rappresentato per tutti questi anni. Come potete notare, è esattamente come l'originale, sempre su telaio di legno. Questi quadri non vanno incorniciati e sono una finestra in casa vostra. Ok, con questo vi saluto e non vi voglio rubare altro tempo. Noi portiamo avanti il messaggio di nostro padre. Mio padre è molto amato in tutta Europa e veramente ha tantissimi clienti che hanno i suoi quadri in casa e ci dispiaceva non accontentare altri. Perciò tra pochissimo saremo online con il nostro sito dove potrete acquistare le repliche e le riceverete a casa vostra in un batter d'occhio. Ciao a tutti ragazzi, ci vediamo presto. Ciao dal porto di Riccione e da Riccione, venite a trovarci. Ciao. Ciao dal porto di Riccione e da Riccione. Ciao dal porto di Riccione e da Riccione e da Riccione. Grazie a tutti.